Ciao creatura Io sono ecca di splendente e benvenuta, bentornata nel regno di Cosa I I S M A Come ho letto dal titolo Nuovo Ulla del Mercato è tutto tema papà perché mio papà mi ha chiesto di fare delle compiere per lui e acquistare pantaloncini corti per l'estate t-shirt, calzini e ho detto va bene si trovo perché pantaloncini corti ancora non ne avevo trovati e è stato molto fortunato perché è stato proprio il martedì dei pantaloncini corti che sedere guarda proprio un grosso sedere questo perché magari anche io vorrei trovare non lo so il martedì delle felpe il martedì di questo il martedì di quest'altro ma non è mai così è sempre insomma random e invece è stato proprio il martedì dei pantaloncini quindi allora la prima bancarella che ho incontrato è stata questa con questa tra virgolette offerta un pantaloncino 3 euro 2 pantaloncini 5 euro e siccome non non sapevo non sapevo dell'esistenza delle altre bancarelle in fondo con pantaloncini che di solito non hanno ho mi son fermata subito a guardare tra tutti 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 quei pantaloncini che di solito lì è la bancarella la bancarella dei pantaloni lunghi a 3 euro che quando si è fortunati si trovano a 2 euro quindi vista l'offerta tra virgolette insomma del prezzo ho acquistato tutti i pantaloni corti il primo che ti mostro è questo della marca Quicksilver non so se è famosa è un pantaloncino che si chiude con il bottone e la cerniera e ha le tasche i tasconi anche dietro sul popino i tasconi mi piace perchè ha questo logo qui ed ha il tessuto diciamo come una camicia quindi mi piace per questo tartan sui toni del verde pastello il grigio mi sembra anche un buon tessuto non troppo caldo poi ho preso questo paio di pantaloncini di terra nuova quindi in totale qui ho speso 5 euro anche questo con il bottone e la cerniera che ogni volta prima di acquistare provo un classico jeans con le tasche dietro sul popi e lui ha solo visto queste gumbere però non ha provato quindi spero che vadano bene però mi sono orientata con un pantaloncino che aveva 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 a casa prima di andare via l'ho misurato con la tecnica del gomito che ti avevo mostrato in qualche video fa e sono praticamente come il mio braccio un po' più largo un po' più abbondante se saranno stretti a lui li metterò io insomma non andranno comunque buttati e poi per la modica cifra per la modica cifra di 50 centesimi ho trovato altri tre paia di pantaloni tra cui uno me lo sono presa per me e anche se da uomo però mi fanno giusti quindi chissene l'unica cosa scomoda sono è il fatto che non abbia la cerniera ma i bottoni però vabbè ce ne faremo una ragione quelli per me sono questi militari chiari sui toni sui toni del beige di quel verde chiaro che vanno benissimo per l'estate infatti la chiusura è composta da tutti questi bottoni poi poi avrai vedere anche il video da qualche parte finché parlo per mostrarti ecco il solito video che faccio per mostrati che è davvero come ho detto cioè 50 centesimi e altri prezzi anche questo paio di pantaloni ha le tasche dietro e mi stanno giusti perfetti non c'è scritto nessuna marca nessun brand in particolare e sono taglia L che è generica in realtà perché vanno bene a me però cioè capito non so cosa sia forse una 44 che praticamente ho avuto gratis perché mi è successo questo qui libro con non so come definirlo perché ho preso tre paia di pantaloni a 50 centesimi ho pagato con 2 euro e di resto mi è stato dato un euro infatti mi ha dato un euro fa grazie poi ci penso faccio ma praticamente i miei pantaloni sono andati sono stati gratis regalati cioè già costa poco 50 centesimi ho un capello nell'occhio già 50 centesimi sono pochi ma vabbè grazie mettiamolo così se uno di questi pantaloni non dovesse andarli vabbè non è stato pagato diciamo così era gratis poi ho preso un po' un po' stile di un tessuto bello leggero elegantino anche se vediamo insomma ci sta a vedere bene con una camicia magari si esce un sabato mattino con una camicia abbinata a blu maniche corte non so se ne ha ma ne ha tante maniche corte anche grigia questo pantalone è marca watson lui mi ha detto di prenderli della sua taglia tra virgolette o anche più grandi perché quelli più grandi li può mettere con una cintura quelli più piccoli non li può mettere ovviamente questo mi sembra un bel tessuto leggero 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 poi è blu quindi non dovrebbe neanche attirare così tanto caldo anche questo chiuso con un bottone e la cerniera e anche questo ha le taschine sul retro del poppy mi piace anche il suono della stoffa poi ultimo pantaloncino acquistato sempre a 50 centesimi questi che sono un po' più lunghi degli altri ma dovrebbero arrivare tipo sul ginocchio dovrebbero arrivare tipo sul ginocchio anche questi sono i miei li ho peccati con la chiusura con i bottoni vabbè e questa è la chiusura con un bottone cerniera marca Sir Oliver che ho visto un sacco un sacco di t-shirt camicie pantaloni di questa marca al mercato non so se è famosa non so se o straniera non ho idea però ci sono un sacco di capi d'abbigliamento con questa marca anche qui la taglia di taschino sul poppy che è proprio per forza ecco il colore è allora sembra un tessuto tipo jeans e però leggero e il colore è tipo un verde oliva però chiaro è dove comunque ho guardato tutte e tutte e tutte le pancherelle fino a arrivare in fondo per trovare l'offerta migliore delle case e c'erano tre paia, due euro oppure un euro e cinquanta al paio, un euro al paio, sono andata in fondo fino all'ultima bancarella per decidere in quale acquistare e l'ultima aveva questa fantastica offerta, tre paia, un euro e cinquanta quindi ho preso queste e non le voleva di questa grandezza, la composizione diciamo dette su delle calze è 95% cotone e 5% elastana nylon, poliestra e quel che è perché sono un po' elasticizzati quindi un euro e cinquanta, tre paia, 95% cotone in estate va benissimo perché appunto si suda tanto non si poteva scegliere, non c'erano tutti neri, allora ho preso, questi erano tanti diversi tipi, bastava insomma guardare bene perché c'erano anche da donna di diverse dimensioni e queste qua erano proprio perfette come le voleva lui da uomo perché taglia 40-46, le altre erano troppo piccole, quelle da donna poi nella solita bancarella dove ho fatto gli affari l'ultima volta che ho acquistato quella maglia di marca della Guess avevano ancora cose, no, avevano Kevin Kline a un video dove lo mostro t-shirt a 2 euro e ho trovato una maglia della Vans questa l'originale Vans, non so se si è visto perché è scritto tipo una specie di beige chiaro chiaro sopra il giallo quindi figurati se hai visto comunque questo qua al fronte, adesso ti mostro il retro ok, il disegno sul retro è questo 2 euro bellissima, è una taglia L ma è veste molto grande quindi va benissimo perché lui avrebbe la XL però appunto a volte a volte le taglie c'è scritto una taglia ma dopo quando te le vai a provare vedi che magari vestono più larghe di altre, più comode poi ho preso questa sempre a 2 euro della Converse originale c'è anche l'etichettina bello un po' vintage 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 è tutta nera con il logo sempre a 2 euro e quindi e quindi anche qua sono uscita prendo i pantalancini e ti ricerda ha pochi soldi e però poi ho visto questa cosa dato che lui sta usando un marsupio che avevo comprato se ti ricordi se ti ricordi i miei haul creatura un marsupio che avevo preso tanto tanto tempo fa su Shin e che avevo pagato tipo 3 euro forse anche meno e a forza di usarlo tutti i giorni e anche in inverno si è distrutto cioè si sta rompendo ecco perché appunto è stato usato tantissimo lui lo porta anche al lavoro e lui fa in bianchino quindi figurati e ho trovato c'è anche il video che lo prova perché potresti non crederci ecco c'era questa mancherella con un euro c'erano delle borsette anche eleganti c'erano delle tracolle militari con dei colori improponibili e lì per lì sto guardando quelle perché un uomo stava scegliendo una di queste borsette per se stesso e lì per lì forse ho detto ma potrei prendere queste e poi ho detto ma no le tracolle ne ha già tante perché mio papà usa le borse le tracolle ne ha già tante però sta rompendo il marsupio che guarda un po' cosa ho trovato ho trovato questo marsupio in jeans molto molto anni 90 secondo me in jeans e le taschine le cerniere ho già provato funzionano tutte anche delle taschine qui non lo so per gli spiccioli è tutto perfetto non so perché le avessero messi un euro forse perché i monosuppi già non vanno più tanto di moda e questo è sicuramente un modello vecchio perché c'è il portatelefono di quelli di una volta proprio anni 90 perché ormai i telefoni qua dentro non ci stanno più però ci puoi mettere i fazzoletti che io già all'epoca ci mettevo i fazzoletti dentro queste tasche che questi telefoni ormai adesso non ci sono più fatti così a meno che non ti compri uno vintage vecchio vabbè un altro discorso quindi gli ho preso questo bel marsupio un euro e poi mi sono accorta che c'erano anche degli zaini a 2 euro ma erano proprio sembravano di carta cioè dentro non c'era neanche una tasca niente proprio minimal e ho detto per un euro questo marsupio anche se è molto si vede che è un modello molto vecchio e per quello che è stato mezzo a un euro però è molto più bello nello zainetto che intanto dire anche di zainetti ne abbiamo poi ho fatto altri video cosa c'era vediamo perchè mi piace comunque guardare insieme a te che cosa trovo al mercato allora anzi c'erano queste borse qua di mtv carine non le avevo mai viste chissà che da che magazzino arrivano originali mtv anche questi 5 euro e anche questi anni 90 5 euro all'una però non mi servivano e no 5 euro se fossero stati a un euro magari ne prendevo una ma 5 euro no poi ah si c'erano le solite a 6 euro ah non si vede bene il prezzo forse c'erano ancora queste questi sandali ciabatte che c'erano anche negli altri mercati sempre gli stessi non so neanche se prima costassero sempre 6 euro poi c'erano appunto i tassi ah poi ho visto il pastel con il papa mi ha fatto troppo ridere il puzzle con il papa che ridere un po' non lo so cos'è un euro e un euro e un euro e 99 mi pare ovviamente non l'ho preso poi qua ah cos'è qua 50 centesimi non ho preso niente ah manca una roba è vero manca un pantalone dove è manca un pantalone che ho preso è vero qua riguardando i video pensato a 50 centesimi ho preso un pantalone è vero adesso mi ricordo bene c'era una pancarella con la merce a 50 centesimi e c'erano tutti i pigiami e pantaloni e altre cose e io volevo prendermi mi ero fissata e volevo prendermi o una camicia da notte o un pigiama estivo spoiler non ho trovato niente per me ovviamente però ho trovato questo pantalone da pigiama che va benissimo ho usato anche come pantalone da biscotto è perfetto ovviamente mi andrebbe bene ma lo regalo a mio papà anche se non mi aveva chiesto pantaloni lunghi da biscotto però quelli vanno sempre comodo sia in estate che in inverno perché comunque è un tessuto molto leggero e sono anche di marca Royal Class Selection non sono il dubbio dell'oretto comunque sono pantaloni classici da pigiama blu azzurli lunghi e leggeri così anche anche per l'autunno quel che è o anche solo da tenersi in casa comodi per non avere i vestiti che sporchi che si usano fuori quindi con 50 centesimi preso anche questo questo è portato a casa adesso riguardiamo finiamo di vedere i video che mi faranno venire in mente altro no? qua c'è la maglia Kevin Klein qua è dove ho comprato le maglie qua sono i i calzini qua c'erano le borse e cose a un euro i borsuppi questo è si che a posto l'euro non ci sono altri video che mancano da essere visionati altri oggetti acquistati bene alla fine che ho rinnovato il guarderoba estivo perché con pochi euro postosi il prossimo martedì non riesco ad andarci ma andrò a quell'altro quindi quasi ogni settimana riesco a portarti un hall del mercato troppo divertente chissà il prossimo martedì quando riuscirò ad andarci che cosa troverò perché insomma va proprio a periodi c'erano un sacco di costumi da bagno anche ma io non ne ho bisogno e perché li ho comprati nel mercato l'anno scorso a pochi euro un euro cinquanta centesimi così e c'erano ancora delle ciabatte la pancherella aveva messo il tefone seca a 5 euro che erano le stesse che ho avuto da 3 euro eh no questo non dovevi farlo eh non mi freghi non mi freghi e niente spero che questo video come sempre ti abbia fatto rilassare ho cercato di convincere mio padre a fare un try on cioè ah ma se vuoi ti filmo finchè ti provi i pantaloni no accidenti poteva essere un video originale con il try di mio papà però vabbè dai accontentiamoci così ti fa bene lo stesso e fammi sapere quale se ti è piaciuto il massubio soprattutto visto che è unisex e anche se io i pantaloni da uomo mi li metto lo stesso mi fanno bene chissene cercavo degli altri vestitini non ho trovato niente quindi probabilmente è martedì che andrò prossimo e andrò a cercare i vestitini estivi e non so se hai visto il la foto le foto che ho messo su IG tutta elegante fammi sapere cosa ne pensi della mia divina eleganza come sempre ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura ciao 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 ciao